Almeno 15 persone sono rimaste uccise nell'esplosione avvenuta a Bruxelles alla fermata della metropolitana Melbic, che si trova vicino alle sedi delle istituzioni UE. Il bilancio tuttavia non è ancora stato confermato dalle autorità. Fuori dalla fermata della metropolitana la paura dei passeggeri, i soccorsi e i feriti. Dopo le esplosioni, la Commissione europea ha bloccato il suo staff all'interno delle sedi, secondo quanto ha annunciato su Twitter il vicepresidente responsabile del personale. Intanto, per quanto concerne le due esplosioni in aeroporto, l'emittente belga VRT parla di attacco kamikaze.